Buongiorno amici, oggi vi porto in una città bellissima, una città enorme, una delle città più visitate al mondo che è Londra. Non tutti sanno che Londra ha ben due sindaci, lo sapevate? Ebbene, ve lo dico io oggi, ha due sindaci. Infatti la città di per sé si divide in due. Una è la città vecchia, che è la parte centrale, che è composta da circa 7.000 abitanti. E poi invece abbiamo la grande Londra, la Londra metropolitana, che è composta da 8 milioni di abitanti. Ecco, queste due parti hanno due sindaci. Va bene, a domani, ciao!